Io devo dire prima di tutto che per me è una grande soddisfazione essere allenatore del Milan perché arrivarci non da un giocatore che ha fatto la storia del Milan ma da ex avversario è ancora più stimolante e mi dà ancora maggiori responsabilità, questo è sicuro. Nel Milan durante gli anni, durante l'era Berlusconi, ci sono stati tanti allenatori che andavano da una parte e dall'altra, ci sono stati quelli che hanno vinto tutto come Cappello, come Ancellotti ci sono stati anche allenatori che sono venuti da fuori, che hanno vinto scudetti come Zaccheroni, come Allegri come addirittura una che ha cambiato storia del calcio, come Sacchi e sicuramente in questo momento non c'è uno in Italia che ha tutta questa voglia come me per allenare il Milan perciò io sono molto fiducioso. Sono molto fiducioso perché quando tu sei Milan, la sua storia, non puoi volare basso e adattarti a normalità ma sei costretto o comunque hai obbligo di pensare in grande, di essere ambizioso e di centrare grandi traguardi e noi adesso faremo di tutto per riportare Milan ai posti, a quello che li aspetta e a quello che si è meritato durante tutta la sua storia. Non sarà facile ma siamo qua per quello e io ho molta fiducia e sono convinto di riuscircelo.